La SUV Sportage, con 452.068 unità vendute, è stato il modello Kia più apprezzato dal pubblico nel 2022. Sul secondo gradino del podio si è piazzata la SUV Seltos, non commercializzata in Europa, attestata sia a 310.418 unità, e al terzo l'altra iconica SUV del marchio, la Sorento, che ha totalizzato 222.570 unità. Anche in Italia Sportage, con più di 13.000 unità acquistate nel 2022, è la più gettonata tra i modelli presenti nel listino Kia, ottava nella classifica delle ibride e ventottesima in quella assoluta. Sportage piace per lo stile, supervisionato da Karim Habib, tanti anni in BMW e dal 2019 capo del Kia Design Center. Habib ha consentito al design Kia di evolversi ulteriormente e di raggiungere livelli di eccellenza con la EV6. Sportage piace perché il suo design è quasi audace, con i fari a boomerang, le grandi maglie della mascherina, le fiancate sinuose e muscolose, e dietro l'inserto acciaio nel paraurti posteriore. Lunga 452 cm, larga 187, alta 162, è tutta nuova non solo nella carrozzeria, ma anche sotto, dove il telaio è studiato per ospitare le batterie senza limitare lo spazio del baule, che raggiunge una capacità da 526 a 587 litri, secondo il gruppo propulsore scelto. Sportage piace perché offre tutte le motorizzazioni possibili, con l'eccezione della versione elettrica. Il listino spazia da ibrida mild a gasolio, GPL, ibrida benzina ricaricabile, ibrida mild benzina, ibrida full benzina. Motori da abbinare a cambi manuali, robotizzati, automatici. Mentre per farsela a misura di città o montagna, mare o campagna, si può optare tra la trazione integrale e quella 4x4. Naturalmente, come tutte le SUV di successo, Sportage non lesina sulle dotazioni di bordo. C'è un sistema multimediale che si gestisce su due display belli grandi che sembrano uno schermo unico, il cruscotto digitale e un bel impianto Wi-Fi. Offre la piastra per ricaricare il telefonino, la gestione del clima trizona e il tetto panoramico apribile. E poi i sedili riscaldabili, anche dietro, a regolazione elettrica. Il portellone motorizzato, le sospensioni a controllo elettronico, le telecamere con vista dall'alto a 360 gradi. Sportage piace anche a chi ormai non può più fare a meno degli aiuti elettronici. Di serie offre la guida di livello 2. Le auto a guida autonoma di secondo livello non solo sono capaci di frenare da sole se si palesa il rischio di una collisione anche agli incroci e il guidatore non sta intervenendo. Sportage è anche in grado di accelerare e rallentare fino a frenare quando si trova in coda e poi riprendere la marcia. Può restare in corsia da sola anche in curva grazie ai sensori che leggono la segnaletica orizzontale e monitorano cosa si trova nell'angolo cieco. Insomma, è comoda come il salotto di casa, protettiva come una cassaforte, ma non difetta di una certa agilità che aggiunge un punto al piacere di guida. Il listino parte da 31.750 euro con la versione top a 53.300 euro. Soldi ben spesi che comprendono la garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri.